A viso aperto e senza giri di parole, Papa Francesco ha risposto a braccio alle domande dei ragazzi che hanno animato l'incontro, beati gli artigiani di pace, al quale hanno preso parte circa 7.000 studenti provenienti da ogni parte d'Italia. Il Pontefice in Aula Paolo VI ha denunciato la crescita di una cultura della distruzione, la presenza della crudeltà anche in tv dove si è mostrata pure la morte violenta dei bambini. Ha poi confessato ai giovani delle scuole di pace di essersi vergognato quando, riferendosi al potente ordigno lanciato sull'Afghanistan, l'hanno chiamata la madre di tutte le bombe. La mamma dà la vita, ha aggiunto, e questa dà la morte, e diciamo mamma a quell'apparecchio. Che cosa sta succedendo? Siamo in guerra, ha proseguito, ma c'è anche gente che brucia la sua vita per gli altri, che si mette a servizio. Poi ha parlato del problema dell'immigrazione, definendola la tragedia più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale e del lavoro nero, dello sfruttamento che è peccato mortale. Ci sono bambini operai che lavorano da 7, 8, 9 anni senza istruzione. La gente viene pagata due lire per mezza giornata di lavoro. Questo avviene in Europa e anche in Italia. La sfida, affermato Papa Francesco, è rilanciare il patto educativo, famiglia, società e scuola, educare alla pace con l'ascolto, l'amitezza e il dialogo. Proprio il dialogo è la parte più difficile evidenziato, prendendo come esempio il confronto dei candidati politici in tv. Ci sono persone, ha continuato Francesco, che usano le parole per dividere. Una chiacchiera è come una bomba, uccide. Essere mite non significa essere stupido, ma dire le cose in pace, senza ferire. Infine un riferimento al creato e alla distruzione che sta operando l'uomo, maltrattando senza limiti la natura. Rassegnazione, ha concluso il Papa, è però una parola proibita. Bisogna andare avanti e lottare con creatività. Grazie. Grazie. Grazie.